pavia play.it accende il tuo territorio buongiorno buongiorno polettino numero 21 settimana 45 dal lunedì 7 domenica 13 novembre come sempre le notizie arrivano da whatsapp osservatorio strade, mass media e antiproposti alla gestione del traffico partiamo subito con pavia anzi prima di questo ringraziamo sempre stefania parato, alessio monteni, stefano zanette, pavia play e riense tv per il supporto comunicativo ricordiamo che le limitazioni alla lotta allo smog e al traffico sono tuttora in vigore per le auto vecchie diesel euro 4 e i mezzi targati prima del 2009 la limitazione dalle 7.30 alle 19.30 allora partiamo subito con i lavori di asfaltatura strada comunale pavia sono lavori previsti stradali di fresature e asfaltature quindi sono lavori abbastanza impegnativi e importanti come abbiamo visto sono iniziati e pressoché conclusi quelli in via l'indipendenza dovrebbero essere praticamente conclusi mentre dal 3 all'8 novembre i lavori si trasferiranno in via Ludicol Moro quindi gli operai lavoreranno fino a 9 novembre si concentreranno nella parte di via Ludicol Moro che si trova di fronte alla chiesa della Sacra Famiglia e la continuazione che poi porta all'incrocio a un via Tasso quindi in quella zona in pratica ci sono queste attività di asfaltatura poi sempre in pavia dall'8 di novembre al 11 novembre via Flare qui via Flare è zona pavia ovest anche qua ci saranno questi lavori di scarificazione e asfalto e infine poi dall'11 al 16 novembre questo sarà per il prossimo bollettino nei pressi della stazione ferroviaria di pavia via Monti e via Trieste sono state molto importanti ci sono anche come avrete letto anche sui giornali e visto in via Ferrini e via Fasoli i lavori di pavia in questo senso qua c'è un senso unico alternato e ci sono situazioni di particolare difficoltà al traffico specialmente la mattina l'ingresso in pavia poi c'è allora abbiamo anche piazza Marconi qui ricordiamo il comune aveva dichiarato la fine di lavoro il 31 ottobre non abbiamo novità rilevanti e poi abbiamo San Martino e pavia i lavori per la ciclabile via Gravellona lavoro iniziato in agosto tempo stimato 5 mesi un senso di marcia è stato aperto e consegnato ma le code ci sono sempre in provincia ricordiamo la famosa SP2 la seconda proroga della strada che è chiusa alla diramazione per Paerana fino al 31-12-2022 Bressana-Bottarone strada provinciale 187 Bressana-Bottarone a Rea chiusa al traffico fino al prossimo 8 gennaio poi abbiamo lavori anche a Candia lavori di asfaltatura e dossi a Godiasco statale di Penice ne oltre poi ci saranno in corso ancora altre attività di asfaltatura per la strada provinciale 15 la 127 la 59 la 46 parliamo di Macca Bruma tra Rovescala e il confine con la provincia di Piacenza scusate a Rossarola e la Bruna in Fumo per quanto riguarda le autostrade l'A21 sempre lavoro in corso in direzione di Piacenza sempre tra Stadella e Casatisma e anche nel senso opposto nel primo caso in direzione di Piacenza finiranno al 17 di novembre il secondo caso in direzione di Torino al 25 di novembre potete visitare i link che vi abbiamo messo nel testo per quanto riguarda l'A7 attenzione la Milano-Serravalle cioè scusate la Milano-Genova siamo qui esattamente alla chiusura da Binazio a Gruppello nella notte martedì 8 notte dalle ore 23 alle 5 anche qui vi lasciamo tutti i link per visionare niente siamo arrivati alla conclusione come tutti i bollettini invitiamo sempre a seguire cosa c'è la strada adottarvi da Dashcam e a segnalare su L24 Facebook o Whatsapp se avete osservazioni e aggiornamenti è molto importante che le riportate qui con questo vi saluto da parte mia da parte della redazione Pavia Play e Irensi TV una buona continuazione e buon inizio settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti